Con Grimogli, Annecchini, Falamigna, Tami, Cappellaro, Zanori, Favagli e Fusari Davanti a tutti come le batterie precedenti abbiamo ancora Falamigna che battaglia con l'Annecchini Si sono invertiti rispetto alla seconda, quindi ritorniamo a Falamigna con la fascia tricolore Il campionato italiano 2018, attenzione di una caduta, attenzione, attenzione Una caduta in pista, Raimler a terra mentre Falamigna chiude prima posizione davanti a Annecchini Grazie a tutti